Il Tar si è pronunciato sui pini del Viale del Rione Inferiore. Un suo commento in merito a questa sentenza? Abbiamo ricevuto ieri sera la sentenza del Tar. In realtà il Tar non è sceso nel merito, nel senso che non si è pronunciato sul Parco della Rimembranza. Ha considerato fuori tempo massimo il nostro ricorso, il ricorso del Comune di Lauria, per cui lo ha reputato inaccettabile, inammissibile, per un fatto temporale, soltanto per un fatto temporale, per cui, ripeto, non si è pronunciato sull'esistenza o meno del Parco della Rimembranza e questo è opportuno che venga chiarito in ogni sede e rimanda la stessa sentenza alla perizia fatta, commissionata dal Comune di Lauria, dalla precedente amministrazione, allo studio dei Dominicis, ritenendola ancora efficace e soprattutto veritiera. Per cui, in base a quella perizia, ricorderete bene, i pini esistenti sul viale del rione inferiore erano stati classificati 5 di categoria D, ossia altamente pericolosi, quindi per i quali era previsto il taglio, e 5, quelli ancora esistenti, di categoria C, pericolosi o meglio, che necessitavano di opportuna potatura, di opportuna manutenzione, cosa che farà a brevissimo l'amministrazione per poi poter completare i lavori del viale. Non scendiamo ulteriormente nel merito della sentenza, perché di fatto il motivo del contendere non era soltanto la salubrità, o meglio, la salute dei pini rimasti in situ, per la qualcosa di fatto rimanda alla perizia, ma avremmo voluto che si esprimesse il TAR anche sull'esistenza o meno del parco della rimembranza, atteso che alle carte comunali non risulta esistenza di questo parco. Rimanendo proprio sul tema del decoro urbano, siamo qui nella Villa Comunale del Rione Superiore, uno spazio dedicato, sabato c'è stata un'inaugurazione molto importante, perché anche Lauria ha le sue panchine rosse, un angolo dedicato a una giovane figlia della comunità, Maria, che purtroppo è vittima di femminicidio, una triste storia di fine anni 80, se non erro, il significato di queste panchine rosse, ma anche un suo appello, perché ci tiene in particolare, un appello proprio sul decoro urbano, che se non andiamo errato è un punto di forza su cui insiste l'amministrazione rappresentata. Sì, sì, mi inviti veramente a ripetere, a reiterare un appello che attraverso TV Lucano ho fatto, grazie a Pino Carlo Magno. Le panchine rosse, il significato delle panchine rosse è noto a tutti voi. Ribadisco che è un sito dedicato alla riflessione, le panchine rosse stanno in tutto il mondo a testimoniare la violenza perpetuata, danni delle donne, quasi sempre, ahimè, da parte del compagno, del marito, cioè delle persone cosiddette care che si coprono, si macchiano poi di questi efferati delitti. Quindi anche Lauria, il mio assessorato in particolare, ha voluto fortemente con l'appoggio del sindaco questo spazio. Abbiamo pensato, non a caso, ripeto, non a caso abbiamo pensato di scegliere questo posto dove giocano i bambini piccoli, perché crediamo che, spinti dalla loro curiosità, sicuramente chiederanno alle loro mamme perché queste panchine hanno un colore differente da tutte le altre panchine situate nella stessa villa. E allora sarà lì che nascerà la prima educazione nei confronti di questo tema e di questa tematica così delicata e così, tra l'altro, attuale. Perché ogni giorno, anche oggi, abbiamo sentito al telegiornale di un nuovo caso di violenza. significa che è un fenomeno in crescita, nonostante tutto il nostro parlare, tutte le manifestazioni, evidentemente c'è ancora qualcosa che sfugge nella nostra società che non si è fatto ancora. Quindi benissimo l'attenzione di noi tutti e questo angolo dedicato alla riflessione si sposa poi con l'attenzione che noi vorremmo che ci fosse, parliamo appunto del decoro urbano, nella nostra cittadina. Non è un caso, ancora una volta, che tutti questi fiorellini siano stati messi attorno al monumento dedicato a Maria e alle altre vittime di femminicidio del nostro paese perché? Perché i bambini e da bambini che bisogna imparare l'attenzione e il rispetto per l'ambiente in cui si vive. Io lo ribadisco ancora una volta a costo di tirarmi dietro delle critiche, ma sono convinta che l'educazione si dia innanzitutto in casa e poi venga completata dalla scuola e poi dalla società. Per regarci il suo discorso che ha fatto qui sabato scorso, la cultura, la necessità di un'educazione al rispetto. Sì, educazione al rispetto che deve essere anche un tam tam tra i giovani. Così come di violenza di genere non si parla tra uomini e con gli uomini, così con i ragazzi si deve parlare di rispetto ambientale. Sono cose che viaggiano quasi di pari passo. E' una nuova frontiera che dobbiamo raggiungere, quella del dialogo aperto su temi che a volte risultano scottanti. Ci sarà pure qualcuno che imbratterà i muri la notte, che sporcherà la nostra villa, che butterà bottiglie di bottiglia. Non sono dei fantasmi, sono dei ragazzi, degli uomini, delle donne. Non voglio fare discriminazioni di genere, per carità. Quindi non voglio affibbiare nessuna etichetta ad un genere anziché ad un altro. Però voglio dire, ci sono delle persone che si macchiano di queste brutture. E allora è alle giovani generazioni che va dato un nuovo esempio, un nuovo messaggio. Questo ambiente è di tutti. Non è soltanto mio, soltanto tuo. E voglio spezzare anche un'altra lancia a favore della popolazione del rione inferiore. Voglio lanciare un messaggio. Appena saranno completati i lavori di rifacimento del viale del rione inferiore, e anche lì verranno poste le panchine rosse e verrà fatto analogo angolo dedicato alla stessa tematica. È stato solo un fatto di tempi, non altro. Lui del tema scottante, appunto, quanto tengono secondo lei i laureoti al decoro urbano della propria cittadina? Ebbè, purtroppo i dati che registriamo ci lasciano pensare, ahimè, ad un imbarbarimento della nostra popolazione. Ci affanniamo a dire che va spinta la raccolta differenziata. Ma non può essere, cittadini cari, che i sacchetti dell'immondizia vengano lasciati al di là della telecamera, all'ecopunto, o che vengano lasciati rifiuti in ogni dove del nostro comune. Esiste un porta a porta che deve essere incentivato e potenziato, ma siamo noi i primi protagonisti della raccolta differenziata. Poi subentrano le difficoltà della ditta a noi note. Noi non vogliamo, badate bene, scaricare sulla cittadinanza le inadempienze o le inefficienze della ditta che gestisce il servizio. Le conosciamo tutte e stiamo provvedendo ad attrezzarci anche per questa cosa. Esiste un contenzioso legale in atto che vedrà a breve, mi pare che sia il 10 maggio, la prima udienza di questo contenzioso. Però, al di là di questo, siamo noi cittadini a sporcare, prima ancora che, voglio dire, a dover badare alla inefficienza, dobbiamo prima badare a non sporcare, o meglio ad attenerci alle regole che il nostro sistema di raccolta impone. Entrando in un altro settore in cui lei ha una delega, cioè quella della sanità, è notizia anche questa di oggi che lunedì 8 maggio il distretto sanitario cittadino sarà intitolato alla memoria del dottor Filippo Calcagno. C'è una missione importante sul nosocomio laureota, ci sono novità in merito, cosa ha da dire? Sì, sulla intitolazione mi trova felice perché nei racconti dei miei familiari, io non l'ho conosciuto, ma questo Don Filippo Calcagno è stato una figura di spicco della comunità laureota, quando poi i medici erano pochissimi, i professionisti si contavano sulle dita di una mano. Quindi mi dispiace tra l'altro non poter essere presente perché sarò impegnata per problemi professionali presso l'azienda sanitaria. Per quanto riguarda il distretto laureota, dobbiamo dire che aspettiamo a brevissimo una delibera, un atto formale che sancisca da parte dell'azienda sanitaria l'assegnazione di quattro posti letto della LAIC, della lungodeggenza ad alta intensità di cure. Sono posti che serviranno non solo a dare una forte risposta all'area sud della Basilicata per una problematica molto molto delicata che è quella degli incidentati gravissimi, delle persone non più autosufficienti, vittime di trauma, ma servirà nel contempo anche ad alleggerire la lunga lista d'attesa presso il reparto di rianimazione del San Carlo. Quindi a fronte di una dotazione strumentale in fieri si aspetta soltanto l'atto formale che sancisca l'impegno preso da parte dell'assessore Franconi e da parte del direttore generale dell'ASP Bocchicchio. Per quanto riguarda poi l'attivazione dell'ospice pediatrico si sta immaginando un percorso e un modello di gestione per una cosa molto così particolare, un percorso delicato per i malati pediatrici oncologici e quindi con la regione si deve ipotizzare tutto un percorso che porti all'attivazione di questo ospice pediatrico. Nel contempo insieme all'assessore Franconi abbiamo immaginato e siamo già in dirittura d'arrivo per il percorso donna, cioè dedicare all'interno del nostro distretto sanitario delle giornate dedicate a quegli esami che noi donne siamo tenuti a fare anche per la prevenzione delle malattie gravi. Possiamo già fare la mammografia, la visita ginecologica, la MOC. Speriamo di completare il percorso a breve con un alter dedicato, con un elettrocardiografo dedicato e con un ecografo pelvico e ginecologico dedicato solo al percorso donna. Quindi l'auria ben inserita in quel processo di rete che dovrebbe esserci adesso nella nuova gestione, nella nuova riforma sanitaria lucana? Non solo. Abbiamo, devo dire, un'interlocuzione privilegiata con l'assessore Franconi che si adopera affinché tutti i distretti periferici della regione non abbiano a soffrire della distanza geografica in modo tale da poter assicurare a tutti gli ambiti territoriali uguali prestazioni e uguali servizi. Il diritto alla salute è un diritto per tutti. Tutti paghiamo le stesse tasse e quindi pur in mancanza oggi di un ospedale della portata del San Carlo diciamo che le cure che possono essere fatte presso i distretti le abbiamo praticamente tutte. Avviandoci alla conclusione di questa nostra intervista, lei oltre alle sue competenze professionali e anche amministrative è anche una donna passionale, mi passi il termine, a livello partitico. Siamo all'indomani proprio alle primarie del Partito Democratico, lei l'ha vissuta in prima persona sia come donna di partito ma anche in maniera, mi passi il termine, familiare, essendo la cugina del governatore. Come vede il futuro del PD lucano e nazionale, soprattutto la battaglia intrapresa da suo cugino Marcello Vitello? Ma al di là delle considerazioni che poi potrebbero essere considerate appunto di parte perché il sangue non è acqua, al di là di questo cerco di avere un occhio scevro dal condizionamento affettivo e familiare e guardare a questa sua rivoluzione democratica e a questo ultimo step che lo ha visto non solo gladiatore in campo ma anche un combattente vittorioso. Ha avuto ed ha un'idea che cerca di trasmettere a tutti noi amministratori di felice, di partito aperto, di partito inclusivo che soprattutto provi a stare attento alle periferie esistenziali, lì dove c'è disagio. E questo è un input che noi riceviamo tutte le volte che interloquiamo con il Presidente. Star vicino agli ultimi, star vicino alle situazioni di disagio perché è lì che deve essere recuperata quella attenzione che il nostro partito ha da sempre avuto e che forse ultimamente sulla scia di onde populiste, di onde di dissenso dovute appunto alla congiuntura economica e sociale così difficile che diciamo forse il pianeta intero vive, ma la nostra Italia è il nostro meridione, ancora di più queste frange hanno avuto in qualche modo gioco facile. La sua sfida che lo ha visto vincitore poi, e ha visto vincitori noi tutti, quelli che ci siamo spesi attivamente per portare a casa un buon risultato, soprattutto convincere i cittadini che le primarie non fossero soltanto un fatto interno a stanze riservate di potere del partito ma che riguardasse tutti noi, tutti coloro i quali credono in un ideale, un ideale di politica progressista vicino alle frange ultime, non solo ai poteri forti. E questo è il messaggio che noi stiamo andando a recuperare, un partito inclusivo aperto a tutte le forze, alle forze delle donne, alle forze datoriali, alle forze del mondo della libera professione, che possa e sappia ascoltare tutti. Ed io credo che la risposta forte che abbiamo avuto domenica 30 aprile ci dia forza e confermi che c'è ancora una grande attenzione e un grande applauso verso la nostra forza politica. Sta a noi adesso rimboccarci ancora una volta le maniche e dare il meglio di noi stessi, dal primo all'ultimo. Grazie mille al Vice Sineco Cagliardi e buon lavoro. Grazie, grazie a voi sempre dell'attenzione.